ok bentornati tutti quanti minecraft e noi eravamo rimasti che stavamo cacciando coi maledetti enderman questione si fa anche interessante 2 secondi ok io vado sempre a destra no ma adesso no i creeper no ma io a destra ci sono andato porca vacca no avete fatto spaventare le moglie i maiali no funziona questo microfono c ho i miei dubbi che funziona ah si funziona ok mi non mi mi Cavolo quanto ero bate già fosse meglio se torna a casa Questa è la prima volta che si torna a casa credo di essermi perso sono troppo lontano da casa porca vada ah le piramidi stanno là ah beh allora ho capito dove si andava forse si ho capito oh no devo mangiare minuto miro 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 a se fosse tipo ipertardi super mega cacchio devo scalare tutta quella montagna adesso no No Porca vacca Guarda qua Che posto che ho trovato Wow No Ouch Quella faceva male Ok No Va bene, va bene, va bene Siamo quasi arrivati alla piramide Sì Finalmente Teniamo un po' di inchiostro qua Io però devo controllare una cosa Eravamo rimasti Ok Ok Era tanto per sicurezza Questo suono non mi piace Ci deve essere Qualcosa Dai su che Stiamo per arrivare Agli piramidi Buongiorno Sì, siamo così lì, siamo così lì Altri 217 metri Dai su Dai su Stanotte ho sognato che stavo costruendo una nuova ferrovia Questa cosa non mi piace perché non ho voglia di costruire nuove ferrovie Cioè, non saprei dove metterle più che altro E' pieno di nuove ferrovie, ma chi cacchio è questa robaccia qua, wow Non mai visto una cosa del genere, è assurdo, è assurdo, è i limiti dei... Aaaaaah! E' i limiti della nostra conoscenza umana Cosa cacchio sto dicendo? La nostra comprensione forse Vabbè Qualunque caso siamo arrivati alle piramidi E io sono felice che siamo arrivati alle piramidi Oh, che belle le piramidi Bene Direi che possiamo portare tutta questa robaccia là a casa E che bello, non è con un treno Fantastico, wow Ci tocca fare tutto a piedi Beh, nel frattempo, cacchieremo un po' Cosa potrei dire? Che questa è una bella piramide Un cactus Non me ne frego, un cactus Ah, un lupo nel deserto Ciao Tendiamo che faccia notte così possiamo andare a caccia di Enderman Ah Interessante Si vede sulla mappa che ha tolto la neve Eh Ok, ci mancava poco che non andavo a finire giù di sotto Wow Weee Cosa c'è qua sotto? Cosa c'è qua sotto? Cosa c'è? Vediamo un po' Nessuna cava Oh Peccato Troppo muoia, troppo muoia, troppo muoia Ok Fantastico, non ho più da mangiare Si che ce l'ho Corriamo, corriamo, corriamo Amooo Ieri ho litigato con mia sorella su Minecraft Sul suo server Perchè Le avevo Cambiato l'impostazione L'avevo messo in modalità creativa per un semplice motivo Perchè volevo prendere la dinamite Ma Lei continuava a dire No ma è più bello in modalità creativa Allora Gli ho detto No non è bello Non ha senso giocare in modalità creativa E lei fa Si ma Vabbè Robo così Vabbè Poverina Non capisce niente Ha soltanto undici anni Boh Quando avrà diciannove anni Non capirà ancora un tubo Ma cosa c'è di bello in giocare in modalità creativa Non c'è niente di bello in giocare in modalità creativa Non puoi fare un cavolo Eh Meno qua puoi fare un mucchio di cose Cioè si al massimo puoi costruire però poi dopo Oh cacchio qua Non tappare un buco C'è stato A farci Questo trucco di magia Oh Maledetti Enderman E questo è Ah ma questo è il villaggio Ma vacca Oh Ciao mucca Ed eccoci arrivati Nel nostro castello Forse dovrai farlo un po' più grande No Va bene così Stiamo andando di qua Ok 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 Allora Mettiamo tutta la nostra roba a posto Questa 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 A posto Questa Va direi fare così 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 ci serve Questo lo mettiamo a posto Questo lo teniamo qua Ah Questo lo dobbiamo mettere qui Ok Questo pure Ok Sto dimenticato di fare una cosa Intanto mettiamo le frecce Dove stanno le frecce? Le ho messe qua Ah Popom Arco lo mettiamo a posto da un'altra parte Questo pure Questo lo cuciniamo Oh Ferro Oh Oro Interessante Benissimo Questo lo ho messo qui Questo lo ho messo qui Questo lo ho messo qui Ci serve una pala Ok ho fatto Beh adesso cosa possiamo fare? Non ho la dinamita O forse ce l'ho Andiamo a vedere Wow Non ho la dinamita Fantastico Me la dovrò fare Quanta polvere da sparò Sabbia Ok Vediamo Di ricordarci come si fa 1 2 3 4 5 Ok 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 No Va cagare Cacchio Ok Ok E ho quattro cose di dinamite Fantastico Che schifo Faccio veramente pena Prende un po' di più E ho prendo da polvo da spara Oh no, ma in notte possiamo andare da in Prendiamo una torcia qua E andiamo E andiamo E andiamo Qua ormai è una foresta Ecco fatto Adesso andiamo Qui Apriamo E vediamo quante perle Ender Wow Due Ah no, l'ho già usato Interessante Cerchiamo qualche Enderman Oddio no 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 Il trucco è saltare Enderman Dove puoi essere Enderman Tutto Ok Allora Ok 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 s direi che questo è il posto che toglie endermen copro quante becco endermen Non si vuole far vedere stanotte Beh andiamo a cercare Eccolo Mi sa che vi devo lasciare Vi devo assolutamente lasciare Tutto nel finire il tempo Di registrazione Porca vacca tutti i mostri è da su me Vi saluto In questa situazione imbarazzante Oddio No vi prego Alla prossima puntata